Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Esiste un pericolo reale, non esiste solo in Italia, se stiamo vedendo anche quello che succede in Germania, quello che succede da altre parti, abbiamo oggettivamente il rischio di una regressione, di un ritorno a forme anche di fascismo, che abbiamo visto quali danni il fascismo e il nazismo nella storia del Stato. Ma secondo lei è un disagio anche legato alle cose che stava dicendo lei prima, è una risposta sbagliata? Banalmente io vedo, lei citava, due anni fa la nostra sede è stata assaltata, formalmente quelli che l'hanno assaltata, che erano poi forza nuova e che per fortuna nei giorni scorsi ci sono state già anche le sentenze del Tribunale che li hanno anche condannati in modo molto preciso, hanno usato la storia dei Novax, hanno sfruttato una contraddizione che si era aperta per arrivare ad assaltare la sede. Del resto vorrei ricordare a tutti che il fascismo negli anni 20, 21, 22, una delle prime cose che ha fatto è stato chiudere le sedi sindacali, bruciare le sedi sindacali, attaccare le sedi sindacali, proprio perché il fascismo è violenza e il fascismo è la messa in discussione della democrazia e del diritto delle persone di esprimere il proprio punto di vista. Quindi io credo che questo sia un elemento che va affrontato e non sottovalutarlo vuol dire che chi ha responsabilità di Stato e di Governo deve agire. Noi quando ci hanno assaltato la nostra sede, insieme a Cisleville siamo andati in piazza, abbiamo manifestato e abbiamo chiesto a quel Parlamento e a quel Governo di fare quello che dice la nostra Costituzione e che dice le nostre leggi. Le forze che si richiamano al fascismo nel nostro Paese sono fuori legge, vanno sciolte e le sedi vanno chiuse. Questi sono atti che debbono essere fatti perché quando ci sono le leggi il modo per crescere vuol dire fare rispettare quelle leggi e lo Stato deve essere capace di fare questa cosa. Qui se sei democratico e se davvero vuoi governare diciamo come avendo giurato sulla nostra Costituzione, noi siamo una Repubblica democratica fondata sul lavoro perché i nostri padri, i nostri onni hanno sconfitto il nazismo e il fascismo. Senza di quello non saremmo democratici e io credo che questa battaglia è un elemento che va affrontato e non si deve abbassare la guardia di fronte a niente. Apriamo la pagina dell'Exilva.